Tutti increduli stamattina 29 novembre 2015 a Napoli in Corso Umberto per via di una ragazza che per l'appunto si è divertita a passeggiare per le strade della città partenopea come se niente fosse sfilando il freddo e provocando nervosi passanti, 6 minuti, avete capito bene, seno scoperto, un mini slipino che copriva ben poco il suo corpo con evidenza dei suoi glutei perfetti, bionda, vestita per tutto, solo di slip ed addosso un paio di stivali. Chi ha provato a fermare la signora che imbracciava una pelliccia e una borsa è stata allontanata in modo brusco, come dimostra un video inviato ad un lettore nel web. La donna si sarebbe lasciata andare ai gesti provocatori mostrando in modo orgoglioso il dato sia A che B, perché di una sorta di femmine in stanza napoletana oppure di una persona con dei disturbi a livello mentale. quel che è certo è che però la donna è riuscita ad accattivare l'attenzione o magari a catalizzare l'attenzione su di sé. Vi ringrazio per l'ascolto e il video termina qua. Un saluto a presto.